Buongiorno a tutti e grazie per essere qui. 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 Vi illustrerò oggi quali sono gli elementi che vi permettono di poter tranquillamente portare la vostra app su BlackBerry 10 con il minimo sforzo. La prima slide che mi piace farvi vedere è questa. E' questa perché il feedback che abbiamo nel momento in cui noi andiamo a parlare con sviluppatori Android, la maggior parte delle volte è l'assenza della possibilità di monetizzare bene la propria applicazione. Diciamo quindi che lo store Android per alcuni può essere fonte di guadagni importanti, per altri però purtroppo non lo è semplicemente per il fatto che il tipo di target di utente è usualmente meno spendente rispetto a un utente di altre piattaforme piuttosto che un utente BlackBerry. Vi mostro un paio di dati che mi piacciono molto. A fine 2012 io incontrai uno sviluppatore greco che aveva sviluppato un gioco che si chiamava Popcorni, si chiama Popcorni, l'aveva sviluppato per iOS. Dopo un mese di lavoro aveva portato il suo gioco su Android. L'aveva illustrato in un post, in un blog post, un po' tutte le varie vicissitudini. A quel punto l'avevo contattato e gli avevo detto perché non provi a portarlo sulla nuova piattaforma BlackBerry 10. L'aveva fatto e il risultato dopo aver pubblicato su BlackBerry 10 è il grafico sulla vostra sinistra. Revenue su iOS la prima barra, BlackBerry la seconda, Android la terza. Quindi molto significativo, rispecchia bene la situazione di molti sviluppatori. Quindi lui si era sorpreso positivamente. Allora dice, vabbè sai che faccio, sviluppo un nuovo gioco, lo sviluppo solo per BlackBerry. Lo sviluppò solo per BlackBerry, Flycraft, un gioco davvero bello. Il risultato è il secondo grafico. Dove la barra verde è il fatturato fatto dal lancio da parte dello sviluppatore. E la barra invece più chiara è la somma dei fatturati sulle tre piattaforme dell'altro gioco. Quindi diciamo la barra più piccola è la somma di quei tre. Quindi lui si è stupito in maniera, diciamo, evidentemente non si aspettava un risultato di questo tipo. Questo quindi a livello introduttivo per dirvi c'è una possibilità importante di monetizzazione delle proprie app sulla piattaforma BlackBerry. E molti sviluppatori Android già ora ne stanno usufruendo. Due parole veloci su BlackBerry 10. BlackBerry 10 è stato introdotto all'inizio dello scorso anno, è una piattaforma completamente nuova rispetto alla precedente. BlackBerry si appoggia su un core che è la piattaforma Qunix, utilizzata in altri contesti che non sono solo quelli degli smartphone, utilizzati in ambito automotive, piuttosto che su treni, piuttosto che in altri contesti dove è sicuramente molto più mission critical rispetto a uno smartphone. Diciamo che in altri contesti dove non è prevista la possibilità di poter avere dei problemi che il sistema operativo si possa piantare perché ci sarebbero delle conseguenze estremamente importanti. Quello che abbiamo fatto è fare in modo che, ve lo spiego dopo, sia molto facile portare l'applicazione Android. In tre minuti, diciamo, voi potete prendere il vostro APK e portarlo sulla piattaforma BlackBerry 10. A livello di lavoro con gli sviluppatori abbiamo fatto tanto. Da fine del 2012 a oggi, diciamo, il problema che avevamo con BlackBerry 10 era che la piattaforma è completamente nuova, non ci sono APK, siamo partiti da zero APK. Dopo i primi sette mesi dal lancio, questo era il risultato. Sulla piattaforma BlackBerry 10 c'erano oltre 130.000 APK dopo sette mesi dal lancio, confrontate con il numero di APK presenti sulle altre piattaforme sempre dopo sette mesi dal lancio. Quindi il lavoro che è stato fatto è stato veramente importante. Oggi ci sono quasi 200.000 APK sullo store BlackBerry, su BlackBerry World, ma grazie agli ultimi sviluppi nel sistema operativo, ovviamente questo numero è aumentato di molto. Adesso vi dirò perché. Innanzitutto, perché sviluppare su BlackBerry 10? Su BlackBerry 10, diciamo, quello che trovate è un ecosistema appunto di successo, un ecosistema, una piattaforma in cui lo store è uno store dove è molto facile trovare la vostra applicazione, ha delle logiche differenti rispetto ad altri store, c'è un contatto poi diretto e umano con le persone che poi gestiscono lo store e che quindi possono dare visibilità alle vostre applicazioni. e in questo momento, come soddisfazione degli sviluppatori, come quello sviluppatore che vi ho citato prima, che è il sviluppatore greco, ci sono tanti altri che hanno trovato delle sorprese positive sullo store BlackBerry e che in questo momento stanno diventando in qualche maniera anche nostri evangelist che spargono la voce su quelle che sono le opportunità. Un po' di dati sullo store, come è composto ora, oltre 180.000 applicazioni, sono quasi 200, un 30% buono sono dei giochi, quindi molti con cui ho parlato in precedenza non se lo aspettavano, eppure oltre il 30% sono giochi. Questo grazie all'enorme apertura della piattaforma BlackBerry 10, per cui non solo da Android, ma anche da altre piattaforme, grazie al supporto pieno di tantissime piattaforme di sviluppo per giochi, è possibile in maniera facile portare anche il proprio gioco sulla piattaforma BlackBerry 10. Quindi, questo è un dato un po' tecnico, il Net Promoter Score misura il livello di soddisfazione degli sviluppatori. All'inizio, a maggio 2012, è uno score che va da meno 100 a 100, a maggio 2012 gli sviluppatori erano frustrati, gli parlavi di BlackBerry, dicevano, ma no, ma non ci porterò mai la mia app, coscienti di quelle che erano un po' la realtà della vecchia piattaforma. In questo momento siamo andati da meno 43 a più 46, quindi una soddisfazione dello sviluppatore dopo che ha visto quello che poteva essere fatto e quello che poteva ottenere dal pubblicare la propria app su BlackBerry World. E voi vi direte in questo momento, ok, però io non sono uno sviluppatore BlackBerry, sono uno sviluppatore Android. Come sviluppatore Android, però, sapete bene che è importante poter sviluppare una app su una piattaforma e poterla facilmente portare sulle altre. Qui c'è un, questa slide illustra un overview di quelli che sono gli strumenti di sviluppo su BlackBerry 10 e come vedete, appunto, uno di questi è, in qualche maniera, il supporto ad Android. Come funziona? Quello che succede è che, di fatto, sopra la piattaforma BlackBerry 10 c'è proprio Android che può girare al di sopra del core QNX. In questo momento, a partire dalla versione OS 10.2, gira la 4.2.2 di Android. Ripeto, c'è BlackBerry 10, il sistema operativo è BlackBerry 10, ma al di sopra del sistema operativo BlackBerry 10 c'è una Dalvik machine, di fatto, in questo momento è Jelly Bean, che può girare, che viene utilizzata laddove io vado a installare non un'applicazione BlackBerry 10, ma un'applicazione Android. Quello che succede è che portare, quindi, il vostro APK su BlackBerry 10 porta via un paio di minuti. Quello che succede è che, utilizzando i nostri tool, reimpacchettate la APK in un formato con estensione BAR, che è quello supportato su BlackBerry World, che viene installato sui terminali BlackBerry, potete tranquillamente pubblicarla, gli utenti la possono scaricare, e le applicazioni sono assolutamente indistinguibili dalle applicazioni native. Quindi l'Android Runtime di cui parliamo, di fatto, è proprio una Dalvik machine che gira al di sopra il core QNX di BlackBerry 10. In questo momento, se andiamo a prendere Google Play, oltre l'80% delle app disponibili sono compatibili. Questa compatibilità è aumentata moltissimo con l'ultima release del BlackBerry OS 10, con la 10.2.1, ci attestavamo sul 65% in precedenza, fino alla 10.2 non c'era Jelly Bean, ma c'era Gingerbread, quindi c'erano ulteriori limitazioni, ma quello che è successo è che in questo momento, con la nuova versione, abbiamo eliminato tutta una serie di incompatibilità che erano presenti prima. Questo ovviamente comporta che quindi la facilità ora sia ancora più importante, cioè ancora più facile portare le proprie app. Vediamo un po' qualche dettaglio e passiamo un po' alla pratica. Allora, di fatto, voi portate un'applicazione Android su BlackBerry 10, c'è un'integrazione completa col sistema operativo che sta sotto. Qui la vostra applicazione farà uso della tastiera virtuale BlackBerry, non della tastiera ovviamente Android, c'è un'integrazione completa con il BlackBerry Hub, quindi le notifiche, potete integrare la vostra app che magari fa uso di push notification con BlackBerry. Ancora, nel momento in cui voi andate a utilizzare sulla vostra applicazione Android i contatti del telefono, vengono utilizzate ovviamente l'applicazione di contatti di BlackBerry, integrazione completa relativamente allo sharing framework, quindi fa la condivisione di contenuti della vostra app su BlackBerry, tutta una serie di componenti native di BlackBerry 10 che automaticamente vi ritrovate sulla vostra applicazione Android, senza far nulla, voi semplicemente fate questa conversione, la pubblicate, e il sistema operativo che sta sotto fa il resto. Ancora un altro po' di informazioni su quello che è il supporto del lato device, quindi voi utilizzate magari certi API che fanno uso della camera, piuttosto che certi sensori, piuttosto che l'in-app purchase, tutto questo viene supportato in maniera automatica nel momento in cui voi questa applicazione la portate su BlackBerry 10, quindi non dovete pensare a nulla, prendete il vostro APK, lo convertite, lo pubblicate sullo store e funziona. Ancora, c'era una serie di limitazioni fino alla 10.2, ad esempio una limitazione al supporto delle mappe, quindi Google Maps non veniva supportata, e quello che voi dovevate fare c'erano un po' di stratagemmi, comunque per fare delle piccole modifiche alla vostra app e farla funzionare. Una di queste era sfruttare ad esempio una WebView integrata con le Google Maps, oppure un'altra soluzione, ben documentata, era quella di sostituire Google Maps con OpenStreetMaps. Avevamo una guida molto dettagliata, quindi c'era questo piccolo passo in più da fare fino all'altro giorno, fino alla release della 10.2.1 di fine gennaio. In questo momento invece questo passo non deve essere più fatto, se utilizzate le mappe con MapView versione 1 questo viene fatto totalmente in automatico. La versione 2 verrà supportata nella prossima release, ma comunque ci siamo resi conto che quindi ovviamente abbiamo aperto ancora di più a livello di compatibilità che comunque se andate sul nostro sito sviluppatori developerblackberry.com slash android slash api support sono ben dettagliate le cose che ancora non vengono supportate ma sono sicuramente molto limitate. Ancora in Apple Chase automaticamente c'è un'integrazione con BlackBerry World quindi nel momento in cui avete vendente dei beni all'interno della vostra app c'è un'integrazione con BlackBerry World quindi il pagamento avverrà tramite il nostro store la cosa scusate è totalmente supportata. Stessa cosa per le push notification ci sono alcune alcune modifiche che dovete fare questione veramente di minuti e automaticamente le push verranno mandate sul vostro dispositivo BlackBerry come se fosse un dispositivo Android. Come dicevo sottolineavo il fatto che con la 10.2.1 del sistema operativo BlackBerry 10 rilasciata appunto a fine gennaio abbiamo aperto in maniera pesante agli sviluppatori Android. In particolare le cose che sono state aggiunte ora e che prima non erano supportate quindi da qui la maggiore compatibilità sono in primis il supporto per il codice nativo il codice nativo prima non era supportato e quindi la vostra app se ne faceva uso non poteva essere convertita in questo momento questo problema non esiste più. Per quanto riguarda ancora l'accessibility il supporto Bluetooth che non era supportato prima ma che ora è supportato con la 10.2.1 ancora non è supportato il Bluetooth LE lo Energy perché comunque questo era stato introdotto con la 4.3 di Android e quindi essendoci la 4.2.2 ancora non è supportato MapView versione 1 integrazione completa con lo Share Framework quindi se voi condividete anche ad esempio volete condividere un contenuto da un'applicazione Blackberry nel momento in cui premete il tasto condividi tra le varie opzioni ci saranno anche le applicazioni Android integrate Spellcheck quello integrato con quello Blackberry 10 che vi assicuro è a un livello decisamente superiore a quelli che potete trovare su Android o su altre piattaforme sulla parte di tastiera Blackberry è stata leader da sempre ma anche sulle tastiere virtuali abbiamo diversi brevetti ci sono certe logiche veramente molto potenti e ancora il supporto per lo scanning dalle reti Wi-Fi ma l'altra ulteriore innovazione che è stata portata con la 10.2.1 è la possibilità di installare on-the-air IAPK quindi io posso col mio dispositivo Blackberry Z30 ad esempio posso andare sul sito Amazon mi scarico lo store di Amazon mi scarico applicazioni dello store di Amazon mi vengono installate on-the-air senza fare alcuna conversione quindi le opzioni aumentano per andare sulla piattaforma Blackberry 10 potete uno scegliere di andare sullo store di Blackberry a quel punto dovete fare quella conversione ma è un'operazione veramente semplice 3 minuti da APK si trasforma in bar fate la sottomissione sullo store e lo potete pubblicare quindi i nostri utenti Blackberry su Blackberry World che è il nostro store troveranno anche la vostra app seconda opzione è quella che comunque l'APK può essere installato se voi linkate a una vostra pagina il vostro APK io ci vado con il mio Blackberry Z30 ci clicco e me lo fa installare quindi non devo fare conversione e ulteriormente se già siete presenti su altri store Android comunque gli utenti nostri che installeranno quegli store potranno comunque trovarvi quindi il processo qui è illustrato il processo di installazione quando cliccate su una APK vi da l'opzione vi da un disclaimer innanzitutto che vi dice occhio che sta installando un'applicazione Android dovrebbe funzionare ma potrebbe esserci qualcosa che non funziona perché comunque ricordiamo la compatibilità è all'80% se dovessimo evidenziare velocemente quello che ancora non funziona Bluetooth è lì è lì NFC non è supportato ancora MapView versione 2 e un po' di altre cosette e quindi comunque c'è un disclaimer che vi da chiaramente questa informazione a quel punto i permessi dell'applicazione avviene l'installazione a quel punto potete lavorare e far funzionare la vostra app che si integra completamente con col vostro dispositivo ogni volta che installate un APK viene dato questo disclaimer e questo invece è l'esempio di quello che succede su una piattaforma su un telefono Android tradizionale se invece appunto volete pubblicare sulla piattaforma BlackBerry World prima operazione è quella di convertire la vostra app trasformarla da APK in formato bar per fare questo ci sono dei tool potete sfruttare i nostri tool a linea di comando molto semplici hanno anche un'interfaccia grafica veramente semplice fate il load caricate il vostro APK cliccate su converti dopo 30 secondi trovate il file bar pronto oppure c'è anche un plugin per Eclipse quindi voi potete integrare con Eclipse potete fare debugging magari volete cambiare qualcosa specificamente su BlackBerry potete integrarvi e magari utilizzare i nostri simulatori o attaccare un nostro device e fare il deployment direttamente su un nostro device in maniera molto semplice direttamente dai clips appunto qui viene citato un po' di altre informazioni tecniche quindi i passaggi sono di fatto di fatto tre perché un primo passaggio che viene fatto nel momento in cui volete convertire l'app è una verifica cioè già il sistema vi dice occhio la tua app sta usando NFC non può funzionare su un dispositivo BlackBerry 10 quindi già a priori vi dà informazioni su quelli che potrebbero essere dei problemi a quel punto c'è l'impacchettamento e questo porta via 5 secondi perché è solo un cambio di formato di fatto il file bar non è altro che uno zip sotto mentite spoglie con la dentro la pk e dei file di configurazione niente di più e quindi la firma perché comunque un'applicazione sullo store deve essere firmata c'è un processo di firma molto semplice e dovete chiedere chiavi di firma o potete utilizzare un vostro diciamo un account che si chiama BlackBerry ID che vi utilizzate in n modi sulla piattaforma BlackBerry e potete usare lo stesso per appunto firmare e a quel punto l'applicazione è pronta sottomettere sullo store viene approvata in un paio di giorni ed sarà disponibile su BlackBerry World qui c'è un esempio sugli strumenti a riga di comando con un po' di esempi d'uso BlackBerry APK Packager Hello World APK Signer con un po' di parametri e lo stesso sul deploy per andare a installarlo sul device però gli stessi comandi hanno anche un'interfaccia se vi chiamate con il parametro meno GUI avete un'interfaccia grafica a quel punto insomma il processo è veramente banale direi come dicevo prima è necessario avere richiedere delle chiavi di firma che vi vengono date nel giro di due ore di solito o altrimenti da un po' di tempo a quest'app a qualche mese è possibile utilizzare il proprio BlackBerry ID il BlackBerry ID per capirci è un ID equivalente al vostro account Google che utilizzate sul vostro device la stessa cosa sul device BlackBerry c'è un BlackBerry ID che potete utilizzare per lo store che potete utilizzare per il BBM o per tante altre cose tra cui anche se siete sviluppatori per la firma la pubblicazione sullo store è gratuita revenue share 7030 come altri store c'è un'ampia possibilità di strumenti di pagamento per i vostri utenti incluso il carrier billing ci sono applicazioni gratis e applicazioni a pagamento quindi uno store molto ricco in cui molti sviluppatori Android appunto stanno trovando parecchie sorprese rispetto appunto a quello che trovano attualmente in Google Play che cosa serve per sottomettere la vostra app di fatto quello che pubblicate è appunto il bar il file bar poi vi vengono richieste tutta una serie di altri asset immagini screenshot della vostra app un'immagine che poi invece verrà usata di grandi dimensioni per nel momento in cui magari avete necessità verrà messa nel carousel il BlackBerry World quindi verrà messa in evidenza la vostra app e viene messa un'immagine promozionale che viene chiesta al momento della pubblicazione e così via un po' di case di successo Flipboard è stata pubblicata assolutamente diciamo tutte queste app che vi mostro qua sono applicazioni per cui voi le usate su BlackBerry sono assolutamente indistinguibili dalle versioni Android sia a livello di performance che a livello di user experience e user interface qui ho un altro po' di esempi Songza Tapto Deezer Wordpress ce ne sono credo un 25.000 30.000 applicazioni Android attualmente sullo store vari tweet e altri messaggi di developer felici e contenti e che altro un po' di link un po' di link che possono essere utili per sviluppare la vostra app per portare la vostra app da Android a BlackBerry due cose volevo segnalarvi la prima è che sotto abbiamo anzi qui abbiamo un piccolo tavolino se siete interessati volete on the fly subito provare a portare la vostra app saremo a disposizione sicuramente tutta la giornata di oggi anche domani almeno la mattina in secondo luogo c'è una promozione esclusiva che stiamo dedicando a sviluppatori selezionati se avete intenzione di portare la vostra app e la vostra app ci piace particolarmente nel senso è un'app che già ha avuto un po' di successo magari su Google Play volete provare a portarla da qui a fine mese se la portate potete avere un device BlackBerry in omaggio uno Z10 uno Z30 questo Z10 o Z30 ha mio insindacabile giudizio nel senso se l'app riteniamo che sia una app particolarmente interessante vedremo lo Z30 in omaggio nel momento in cui l'app sarà approvata sullo store non è una promozione che è pubblicata sui nostri siti perché la stiamo gestendo come team di evangelism in maniera diciamo uno a uno parliamo qualche domanda prego totale si 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 quello sia per applicazioni portate Android ma anche per diciamo adesso non mi sono questa presentazione è diciamo così soprattutto orientata agli sviluppatori Android non mi sono soffermato su quello che è il supporto di tantissime tecnologie librerie piattaforme altri strumenti di sviluppo multiplatform che però sono supportati su BlackBerry 10 semplicemente perché ho un'applicazione che è basata su una libreria che utilizza OpenGL per fare rendering comunque dell'interfaccia e siccome ho comunque dei problemi tra tablet e smartphone dovuto alla compressione dei texture voglio capire appunto su BlackBerry si può provare ovviamente non vi sto dando un'altra diciamo l'altra alternativa l'alternativa è se voi avete sviluppato la vostra applicazione Android utilizzando delle piattaforme di strumenti di sviluppo che nascono di per sé multiplatform al 99% non dovete utilizzare questo processo per portarla su BlackBerry ma utilizzarla direttamente in maniera in maniera nativa ci sono n tool non so sviluppate giochi Marmalade piuttosto che n altri strumenti sono supportati in maniera nativa su BlackBerry 10 quindi non c'è bisogno di fare il processo di conversione della PK ma a quel punto fate il deployment direttamente su BlackBerry 10 grazie prego altre domande ok grazie allora se siete interessati avete qualche domanda il tavolino nell'area della sala caffè grazie ancora grazie a tutti